Arriva una prima pronuncia sulla vicenda dell'occupazione da parte di Casa Pound del palazzo di Via Napoleone III a Roma. Il Tribunale Capitolino ha combinato 10 condanne a 2 anni e 2 mesi. Tra gli imputati, accusati di occupazione abusiva aggravata, ci sono Gianluca Iannone, Simone Di Stefano e il fratello Davide. Nel 2019 la loro sinnaca Virginia Raggi si presentò sotto l'edificio occupato dai militanti d'estrema destra per notificare insieme alla polizia locale un verbale che ordinava la rimozione della scritta in marmo apposta sulla facciata del palazzo. Nel 2022 l'immobile venne inserito nella lista delle strutture da liberare dall'ex prefetto Matteo Piantedosi. Nella requisitoria ora dello scorso aprile il PM Eugenio Belmonte aveva spiegato che l'occupazione va avanti dal 2003 che non ha le caratteristiche delle finalità abitative e che ha causato fino al 2019 un danno all'erario stimato dalla Corte dei Conti in oltre 4 milioni e mezzo di euro, oggetto anche di un provvedimento di sequestro preventivo non eseguito per ragione di ordine pubblico. Ora il giudice ha disposto il dissequestro dell'immobile e la restituzione all'Agenzia del Demanio oltre ad una provvisionale esecutiva di 20.000 euro e il risarcimento da stabilire in sede civile. Casa Pound Italia fa sapere in una nota di essere pronta a difendere il palazzo e le famiglie in difficoltà e scrive qui hanno trovato un porto sicuro e ricorreremo in appello.